Il motivo per cui ci sono tutti questi meccanismi è perché gli appartamenti, soprattutto a Roma, sono sempre più piccoli e quindi è importante che in uno spazio limitatissimo ci siano tante possibilità, quindi il letto che si apre, il tavolo che si apre come state vedendo, qui abbiamo invece addirittura un letto che diventa divano, il divano che diventa letto, insomma, quindi praticamente tutte soluzioni che servono per cercare di arredare spazi monolocali, spazi piccolissimi, in uno spazio di 20 metri quadrati praticamente si ha tutto. Siamo presenti con questi nostri prodotti per essere sempre più vicini alle esigenze dei nostri clienti, con prodotti personalizzati e a misura. I tavoli che si estendono sono molto funzionali nelle grandi città, dove gli spazi sono piccoli per alcuni momenti, ma servono delle esigenze di ampliamento in altri ambiti. Questa è la cucina più piccola del mondo, te la puoi portare in casa, la puoi portare in camera da letto per fare una buona colazione subito, la puoi portare sul terrazzo, la puoi portare dove vuoi, perché è leggera, è gradevole ed è un'invenzione nuova.